RISINGUNE NACIUSO Una una per me Dio vede provvede Speriamo You understand the common time? Lunga lunga d'underbeta You did preach in Cogna Sinanciuso? Borgugno Ah, pensavo che non era così San Benazzo E tu com'è che ti chiami? Frastornato E' un po' l'avevo capito Vado un attimo dal tuo amico, torno subito Che Dio ti accompagni Vado da solo sto qui Tu come ti chiami? Fra Martino Ambanaro Ah Eh, passai qui per caso? No perché io Mi sembra di averti già visto da qualche parte Ma perché sai cosa Cosa mi succede? No, dimmi Ho fatto un peccato molto grave E quasi io vorrei confessarmi Ma si può fare qui? Sì, sì, va bene figliolo Tanto non ci sente nessuno Ah Parliamo piano sottovoce No perché io l'altra sera E che Io l'altra sera ero a casa con la fidanzata no? Sì Eravamo soli sai come vanno le cose no? Ho tirato giù il reggiseno Non è peccato Ah Non è peccato? No, no, vai avanti E ma E ma dopo Sono sceso un po' più giù Ho tirato giù anche le mutandine Non è peccato Vai avanti Vai avanti Dopo E' arrivato il padre Vesto è un peccato Voto ragazzi e no ragazzi e no non era così non era così e non era così e non era così si era così e non era così fia te volontas tua fia te alfa Romeo fuori degli coglioni